Un sabato dedicato alla tutela dell'ambiente. Sono stati una trentina i volontari che nel weekend hanno preso parte alla giornata ecologica lungo la strada provinciale SP1 bis in zona Molinello nel comune di Borgo Valbelluna. Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione di differenti realtà. Ogni autunno noi volontari ripuliamo la strada dalle spazzature lasciate ai suoi bordi e lasciate nei boschi vicini. La particolarità di quest'anno è che grazie al gruppo Canyon Indolomiti siamo riusciti a togliere le spazzature anche dalla Valle delle Baite, valle che parte da Stabie ed arriva a Molinello. Oltre al gruppo Salvataggio Ampibbi Belluno, le No Plastic Girl e il gruppo Canyon Indolomiti che sono gli organizzatori di questo evento, quest'anno hanno partecipato anche gli eco volontari di Feltre e il gruppo Speleologico San Marco. La proloco di Stabie Canai ci ha aiutati nell'organizzazione di questa giornata ecologica. Una cinquantina i sacchi raccolti con rifiuti di vario genere, dalla ferraglia al vetro alla plastica ma anche indumenti, perfino hanno fatto sapere i volontari la carcassa di un motorino abbandonato in mezzo alla valle. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del comune di Borgo Valbelluna e l'amministrazione ci ha donato sacchi e guanti per la raccolta. Gli addetti comunali verranno a ritirare la spazzatura per portarla in ecocentro.